sorridi tanto ormai è finita ed è impossibile credere che usciremo dalla crisi l'unica speranza è che mai hanno ragione è da stupidi pensare che il lavoro nobilita davvero l'uomo forse è meglio trovare una poltrona e non lasciarla andare non è pensabile che la denacia dai suoi frutti attaccarsi con tutte le proprie forze al futuro è da illusi solo gli stupidi pensano che le persone possono fare la differenza e non è vero che la diversità che caratterizza il nostro paese è un valore aggiunto vi dirò di più ognuno rimane legato alla propria tradizione senza innovare aspettare perché ormai non conviene far accadere le cose sappiamo che quello che conta non è la qualità della vita pensiamo solo un modo veloce di arricchirci e non sappiamo più qual è il vero significato della parola valore assegniamoci non sono più le piccole e medie imprese italiane la vera forza del nostro paese non cresceremo mai e non serve rimboccarsi le maniche se noi siamo consapevoli che in italia non esiste ricambio generazionale e non è vero che il merito deve essere valorizzato conoscere qualcuno è più importante che conoscere è meglio restare immobili e chi ha la vista lunga sa che non ce la faremo e tutto questo succederà se non invertiremo la tendenza ce la faremo e chi ha la vista lunga sa che non è meglio restare immobili conoscere è più importante che conoscere qualcuno il merito deve essere valorizzato e non è vero che in italia non esiste ricambio generazionale se noi non siamo consapevoli che serve rimboccarsi le maniche non cresceremo mai la vera forza del nostro paese sono le piccole e medie imprese italiane non rassegniamoci sappiamo qual è il vero significato della parola valore e non pensiamo solo un modo veloce di arricchirci è la qualità della vita quello che conta sappiamo che per far accadere le cose ormai non conviene aspettare perché senza innovare ognuno rimane legato alla propria tradizione vi dirò di più un valore aggiunto è la diversità che caratterizza il nostro paese e non è vero che le persone non possono fare la differenza solo gli stupidi pensano che attaccarsi con tutte le proprie forze al futuro è da illusi la tenacia dai suoi frutti non è pensabile lasciarla andare e non è meglio trovare una poltrona forse il lavoro nobilita davvero l'uomo è da stupidi pensare che l'unica speranza è che mai hanno ragione usciremo dalla crisi ed è impossibile credere che tanto ormai è finita sorridi noi siamo italiani grazie a tutti grazie a tutti